Un servizio fotografico che si intitola Avanti Curve che è stato pubblicato da V Magazine, la rivista di moda considerata più all'avanguardia negli Stati Uniti, che ha deciso di riservare la copertina e 12 pagine a queste modelle, decisamente prosperose. Sono state scattate da un fotografo norvegese, queste foto sono una celebrazione della bellezza diciamo abbondante. Le modelle sono sia nude che in costume, in jeans attillati più o meno e in biancheria sexy e con orgoglio mostrano fianchi e seni decisamente più formosi di quelli che di solito appaiono nelle riviste di moda o che vediamo alle sfilate. L'idea è nata da un libro autobiografico di una donna che si chiama Hungry, il libro non la donna, Hungry vuol dire affamata in inglese, in cui questa autrice racconta di aver rischiato di morire a causa delle diete massacranti che le erano imposte dal suo agente, anche lei era una modella.